Potenziare gli impianti idrovori a Valle Noncello con 5 unità. E' questo quanto ha dichiarato l'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni in un incontro pubblico svoltosi nel quartiere di Valle Noncello assieme ai tecnici comunali Andrea Brusadine e Cristian Galasso. Durante la serata infatti è stato illustrato il progetto che avrà come obiettivo la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico prevista dall'accordo di programma Stato-Regione. Siamo a Valle Noncello questa sera per la presentazione del progetto di potenziamento degli impianti idrovori che contempera anche la riqualificazione dell'area retrostante della scuola elementare del quartiere. L'ultima emergenza idraulica ha evidenziato che le opere realizzate negli ultimi anni hanno portato un beneficio perché i disagi sono stati limitati però per poterci dire sicuri dobbiamo fare degli altri interventi. Si tratta di favorire il trattenimento dell'acqua a monte ma anche di realizzare alcuni accorgimenti nel nostro territorio e l'ufficio idrico del comune di Pordenone è proprio impegnato nella progettazione di questi interventi. In particolare qui a Valle Noncello si tratta di potenziare gli impianti idrovori rialzare le piazzole dove sono collocate le idrovore esistenti e anche migliorare le piste di accesso. In questo modo durante le emergenze ci potrà essere una gestione ancora più efficace e si potrà evitare il rischio degli allagamenti che si sono verificati nel 2010. Grazie a tutti.